Entrano nel vivo i preparativi per la prima edizione della festa della rinascita in programma all'Aquila il 6, 7 e 8 dicembre che cade a quattro mesi dal decimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009 e che avrà il suo momento più importante nella cerimonia di riconsegna, riapertura e riconsacrazione della chiesa di Santa Maria del Suffraggio, nota come Anime Sante. Lo storico luogo sacro, uno dei simboli del tragico sisma del crollo del 6 aprile, della cupola in seguito alla forte scossa tornerà al culto dei fedeli al termine di complessi e laboriosi interventi di riconsolidamento e restauro a causa degli ingenti danni del sisma finanziati dal governo francese e italiano. La riconsegna di questa chiesa agli Aquilani è un simbolo molto importante per la rinascita e la ripresa della città. Grazie 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 Grazie